La CNA Calabria e Cofi di Puglia, nell'ambito delle azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie, hanno presentato nel corso di un convegno a Villa Fabiano di Rende, un nuovo servizio per le piccole e medie imprese atto a migliorare le condizioni di accesso al credito e di sostegno alla competitività dei sistemi produttivi. Al convegno dal titolo, lo sviluppo delle imprese con il Cofi di del sistema CNA, hanno preso parte tutti gli istituti di credito convenzionati presenti sul territorio calabrese e ha fatto registrare la presenza del segretario nazionale del CNA, Sergio Silvestrini, che ha concluso i lavori e il presidente di Cofi di Puglia, Luca Celi. È una sfida che come CNA abbiamo accettato. In realtà abbiamo detto che adesso è arrivato il momento di rispondere. Le imprese del Cosentino, ma più in generale della Calabria, hanno difficoltà di accesso al credito, forse di più rispetto ad altre imprese di altre regioni. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo trovato una soluzione intelligente, non ordinaria, un confidi interregionale tra imprese calabresi e imprese pugliesi, che darà molta forza contrattuale a questo mondo anche nei confronti delle banche. Ci presentiamo alle aziende calabresi la possibilità di utilizzare lo strumento del Cofi di Puglia perché è meglio per le imprese, perché noi siamo vigilati da Banca d'Italia, diamo quindi alle banche una garanzia patrimoniale e professionale già in qualche modo accreditata e accertata, se così possiamo dire. Teniamo a battesimo questa struttura nuova della CNA che abbiamo voluto fare insieme a CNA Puglia, quindi una sinergia importante tra due regioni importanti del meridione, rispetto a un bisogno importante e credo fondamentale per le imprese, che è l'accesso al credito. Uno strumento, quello presentato da Cofi di Puglia e CNA Calabria, frutto della messa in rete di fondi di garanzia e della ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Cofi di. Le imprese devono fare rete, dobbiamo abbattere tutte le barriere culturali e territoriali, facendo solo impresa e rete, quindi una rete di impresa, noi possiamo effettivamente accogliere tutti gli strumenti che ci vengono forniti.